Adesso intervisteremo la signora Natalia Benedetti Signora Natalia Benedetti, buonasera Buonasera Che ci dice di questa isola così calda anche d'inverno? Che è un'isola calda anche d'inverno È più bella d'inverno che d'estate È più calda d'inverno che d'estate È più luminosa d'inverno che d'estate E poi d'inverno adesso ci siamo noi qua Ma non è che saranno i cuori caldi di quest'isola Che ce la fanno sentire così bella e riscaldata? Sì, la gente, il clima, le persone È tutto bellissimo Procida era bellissima È tutto bello, grazie E gli amici, gli amici che cosa ha trovato qui? Ha ritrovato qualche amico? Tanti amici, anche io, anche per me Tutti gli amici qua convenuti nella piazzetta E soprattutto Anch'io ho ritrovato un bristolle, un professore Che ci piaceva suonare le prime esperienze musicali bellissime Già da molto giovani Quindi grazie State vedendo la rubrica del giornale Il Dispari Così vedete Bruno Mancini in alto alla destra Quassù, eccolo qui, Bruno Mancini Il fautore del tutto dell'Associazione Dila E poi qui sotto abbiamo tutti gli esecutori Che domani sera parteciperanno a questo bello spettacolo Che si terrà qui nella piazzetta Sotto c'è un signore che non so chi sia Questo Arbonelli Che presenta Donatella, Regi, Canali Perché questa è una rubrica di presentazione di vari artisti Benissimo Qui da Ischia abbiamo terminato Tanti saluti a Perugia A Ischia A Napoli E a Ubristolle A tutte cose A tutte cose